Benvenuti a un nuovo episodio della carriera FIFA 20 col Bucklesfield. Cominciamo gli allenamenti. Eccoci, vediamo. Oh, Phillips e Thomas che salgono. Phillips a 69 e Thomas a 61. Il resto migliorati giusto un poco. Attualmente siamo diciannovesimi in campionato per quanto riguarda la classifica. Giochiamo contro l'ultimo in classifica, il Forest Green. Andiamo un po' per qualche altro trasferimento. 10 novità. Lapworth. Archmere, Pedro Porro. Questo sicuramente sarà forte. Con Kennen. Callum Lang, sempre attaccante. Olo Sund. Rotram. Che non lo vedo male questo. Però, terzino destro. Odor del Barsley. Legante. Ah, Debo Yegio. Mamma mia. Queste. Un attimo, un controllo alla rosa. Abbiamo fatti i cosiddetti quattro acquisti. Che ci volevano. Abbastanza coperto sulle parti. Abbastanza coperto sulle parti. Grazie. Andiamo. Fall is green. Ah, direi formazione tivo a questo punto. Eccoci. Fall is green, Maxisfield. Sound Park. Forza ragazzi. Forza ragazzi. Siiii. Golla. Si è Lewis. Lewis. 1 a 0. Bravissimo ragazzo. Ok. Ok. 1 a 0. Occhio. Si fa spazio. Occhio all'avanzata. Prova a piazzare. Pena male. Buona. Perfetto del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. È un prodigio eh. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Mamma mia. Pena male. Quanto è attivo. Dozen. Occhio. 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 Che solo. E c'è la conclusione. Nooo dai. Calcio di rigore. Ma per fermarlo si ha fatto la scivolata. L'arbitro è stato clemente in questa occasione. Ma dai. Ha commesso un brutto fallo. Poteva andargli anche peggio. Non cavorare il rigore adesso. Niente. Non sbaglia il calcio di rigore. Ah. Che errore. Non cagliare quel rigore. Ha superato il portiere dal dischetto. Precisa conclusione. Il portiere non poteva farci nulla. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1 a 1. Dai dai. Lo possiamo fare un altro tranquillamente. Forza. Azione interessante questa. Attenzione. Williams. Buona lettura dell'azione. Ha intercettato bene il passaggio. Può ricevere una posizione interessante. Se ne può andare adesso. Provaci. Nooo. Peccato. Niente da fare qui per l'attaccante. Peccato che era alto. Non l'ha nemmeno sentita. Cercato solo di calciare con tutta la forza che aveva in corpo. Grazie. 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 Freddo. Concentrato. L'attaccante. Questi gol sono facili. Solo la forza. Galalt. Galalt Rivia. Così lo chiamerò. In onore. 2 a 1. 2 a 1. Di The Witcher. Bravo che era al top video. Ok. Buone. Qua fine. Regalano palla agli avversari. Occhio. Possesso di palla. Può colpire. E attenzio. Attenzione. Buone. Bene. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco. Tutto pronto. Comincia la seconda frazione. Bene. Arcibaldo. C'è spazio per andare. Ottimo qui il tiki taka. Occhio. Arcibaldo. Ecco il tiro. Ecco il tiro. E il battiere. Dispiro. Bene. 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 hätte ma male. Qui l'attacca. Avanza sulla tre quarti. Il file indese su e giange. Non riuscire a tenere il pallone in campo. Possesso parla agli avversari. Attenzione perché è pericoloso. Oh. Oh. L'ha fatto la diagonale. Ah. 2 a 2. Non molla. Non ci voleva proprio. Non ci stanno perdere. Continuano a loottare su ogni pallone. un gol in c'è campo per la ripartenza e vai che era il torriglia Conri peccato rimessa con le mani da buona posizione protegge il pallone sul pressing avversario ci sei peccato mamma mia che guaglia ha visto una guaglia mamma mia aspettavo meglio ci saranno da recuperare due minuti si getta in avanti a cacciare il gol vittoria grande gol uuuuh uuuuh mamma mia uuuuh Pronti, andiamo subito avanti. Wicom Wanderers. Ma prima, stanco dei soliti tornei di FIFA, tra poco parte Fanta FIFA, un'asta come nel Fanta Calcio, e poi il torneo con le squadre modificate. Ci sono dieci posti in due tornei differenti. Tutte le info sulla pagina Instagram IoGiocoACasa. Quella squadra che l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, ma le gioco al Tottenham. Il Wicom. Mamma mia, diciottesimo sto, mamma mia. Tre punti in quattro partite. Eh. Diciassette novità, altra gente. Cono, great. Wicom Harper. Ecco, ho frati, il fratello di Lions e segnò ne questo. Eh, chiaro bene, ci assomigliano pure. Eh, eh, si assomigliano. Con roll. Si è svincolato attaccante. Ah, sì, questo lo stavo osservando. E poi sono gli altri. Dai, dai. Infatti, Geralt è un poco stanco, quindi. Ok che non ha giocato l'altra volta, quindi gioca questa. Andiamo. Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Pronti, ma che si rivelino all'altezza. Vediamo già una vittoria. Oh, figlio, c'è quell'armadio amico di Akimpe, wow. Mamma mia. E' stato un match dagli altissimi contenuti tecnici e egoistici. E' chi lo fermo a quello? Bravo. Buona, vai, che regolare, regolare, regolare. No, che mi si è manciato. No, wow, che mi si è manciato. Bravissima. Peccato. Sono andati a un passo dal gol. Il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applausi. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Ma come ha fatto? Facile, la parte in mezzo. Nessun problema per la difesa su questo difensore. Bravo, esci, esci, esci. Possono ripartire in contropiede. Si lanciano negli spazi. Cerca di bucata verso il compagno. Bravo, suzza. Pallone invitante. Prova a far partire in giro. Peccato. Non si attiene, attenzione. Distinto il difensore. Pazza via. Bravo, fatti vedere, Gnauà. Può metterla dentro. Attenzione perché è pericoloso. Può ricevere la posizione. Prova a piazzare. Sicuro. Si giocherà ancora per due minuti. E poi. Sei solo. Sei solo. No. Tirole spinto ma la palla è poi in giro. che mi è mancato. Sicuro quel intervento. Pallo laterale da buona posizione. Devono sfruttarlo. È in buona posizione. E si chiude qui il primo tempo. Zero a zero alla fine dei primi 45. Tutto pronto. Si parte con il secondo tempo. C'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Si c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Prova. È grande. Gnauà. La sblocca. Con un'ottima finta di entrare. Si è finita qui. Mi aspetto una reazione da serie. Dovranno sudare. Benissimo. Vogliono portare a casa la vittoria. Mamma mia Pierre. Guarda ci sono golle e gol. Ma questo è sicuramente uno tra i più belli. Che abbiamo visto. Nell'angolino. Grande. Gnauà. Cosa ho visto. Lucidità. Freddezza. Lunga cavalcata per battere il portiere. Fisico. Tecnica. Aumenta ancora l'intensità della sblocca. La spinta dei tifosi. Buona l'intuizione qui. Nulla di fatto qui. Non vede. Eh signore. Signore. No. Questo è rigore però. Mamma mia. Eh dai. Eh pure per me. Meno male. Era rigore quello. per cambiare il corso di questa gara. Regalano palla agli avversari. Calma. Calma. Ne manca poco. Si giocherà ancora per due minuti. piena. Cos'è sto van. Conca. Tutto sommato giusto. Non si è perso troppo tempo. Oh peccato. Con un intervento provvidenziale. Buono. Grande vittoria. 1-0. Meno male. Oggi sono stati straordinari. Soprattutto nella fase offensiva. Niente da fare. Buonissimo. che serve. Un intervento conto finale c'è. Un intervento conto finale. Con i marcatori. Ah. Turno 2. Ah. Già secondo turno di Carabao Cup. Salute. Questi ultimi acquisti. Vabbè. Vediamo prima. Liam Walsh. Di video d'offerta. Vediamo. Ma come? Wow. Liam Walsh è 69. Vale un milione e mezzo. Questo era un buon acquisto. Vabbè. Ma c'è quel giovane. Lo faccio crescere. Poco miglioramento. Ora possiamo avanzare. Contro il Rochdale. Nel secondo turno. Giustamente andiamo a Wow Yuwa. Vuole giocare. Zero novità. Steven se ce lo giochiamo per il secondo tempo. Dai ragazzi. Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Dai ragazzi. Dai. Vai. Match che non ammette repliche. Serve una vittoria per andare avanti. Non dovrebbe mancare lo spettacolo Stefano. Qualificazione che passa attraverso i prossimi 90 minuti. Match che non ammette repliche. Che perde e torna a casa. La differenza oltre ai valori dei singoli in campo. Potrebbe farla la tenuta nervosa delle due squadre. Questa partita è un'esperienza che ha fatto un ruolo fondamentale. Dai che è in alto Brivia. Uuuuh. Non male. Ha sferato un gran gol qui. Non è che è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione. No. Che fail. Ottima la verticalizzazione. Bravo qui a smarcarsi. Oh. Grande portiere. Ma non è che è qui l'intervento del difensore. Che fai ti butti prima. Vediamo cosa fa ora. Vabbè. Questa è facile. Quella di qualche Satify invece è stata streppata. È in buona posizione. Può avvicinarsi alla porta. Oh. Deve spazzare velocemente. Eh dai. Non ti vuoi dormire così. Mamma mia. Da vedere se poteranno spingere per farne un altro. Se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Non ci voleva proprio. Portiere che ha toccato la conclusione. Ma che non è riuscito a impedire che il pallone finisse in rete. Tiero potente. Bargis. Che mi ricorda. Eh. Il secondo di Barba Nera. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Bargis. Il quarto uomo indica tre minuti di recupero. Eh. Delaney. Cercano di aprire la difesa avversaria. Vediamo cosa inventa ora. Ottima visione di gioco. Nooo. Magonna. Comincia a farsi in pollo. Due gol da recuperare. Vediamo bene. È ancora presto però per cantare vittoria. Eh. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare. Non fate attenzione. Non succedere altri. In presa. E dopo la fine della prima frazione dunque. Due a zero. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Può ricevere una posizione interessante. Pallone invitato. Vai Keralt. Oh mamma mia Keralt. E' in buona posizione. Cerca il cross profondo. E' buona. Grande. Vai. Vai Gnauva. Vai Gnauva. Tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo. Il gol può arrivare da un momento all'altro. L'unico problema è che non c'è più tempo. Bel cross ha messo. Il punteggio è cambiato. Ora siamo sul risultato dei due a uno. Buon fine. Io ho perso il colpo Stefano. Stanno mettendo in mostra una grande organizzazione. Tanta roba eh. L'allenatore ha fatto davvero un ottimo lavoro. Guarda la stanza va. E qui poteva far meglio. Che occasione sugli avversari. Saranno due minuti di recupero come indica chiaramente il quarto uomo. Chiamunci. Corri. Corri o sarevi. Manca poco. Può essere l'ultima shot. La spazio davanti a sé. No fuori gioco. Fuori gioco. Lo bevete a quella di sopra. No a lui. Mamma mia. Una spazio particolarmente interessante. Eh. Vabbè. Ancora buona. Ancora buona. Intercetta bene il passaggio. Peccato. e finisce dunque la gara sul risultato di 2 a 1 vabbè finisce così non fa niente e con questo vi saluto al prossimo episodio ciao da Santi2087